La rivoluzione urbanistica futura di Teramo Capoluogo passa attraverso due grandi interventi di recupero. L'ex manicomio di Porta Melatina, 22.000 metri quadri che si trasformeranno in una cittadella della cultura, e il teatro romano, il bene archeologico più importante dell'Abruzzo. Su quest'ultimo c'è stato oggi un passaggio fondamentale. Lo studio Bellomeo di Palermo, infatti, ha rimesso al sindaco di Teramo il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del prestigioso monumento. Si prospetta così la sistemazione di uno spazio cittadino per la fruibilità quotidiana, un sito di grande suggestione da dedicare anche alle rappresentazioni artistiche e teatrali. Il progetto, nella versione conclusiva, è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni indicate dalla sovrintendenza, dal Consiglio Comunale ed emerse dal confronto con le associazioni e i cittadini. Tutto pronto, quindi, per i successivi passaggi che porteranno all'avvio dei lavori, mentre contestualmente prosegue l'iter per gli espropri per l'abbattimento dei palazzi Salvoni e Adamoli, determinante per la realizzazione dell'intervento. L'elaborato verrà trasmesso anche agli enti finanziatori, Fondazione Tercas e Regione Abruzzo, il cui contributo è fondamentale per l'avvio degli interventi. Del risultato è stato reso partecipe anche l'onorevole Dario Franceschini, che era già stato investito della questione durante la sua precedente esperienza da Ministro per i beni culturali, quando una delegazione teramana di cui facevano parte anche il compianto Marco Pannella e i rappresentanti dell'Associazione Teramo Nostra a lui illustrò l'idea. Già in quell'occasione Franceschini colse il senso dell'intervento, assicurando il contributo del Governo. Questo risultato è degno di un'emozione collettiva, ha dichiarato il sindaco Gianguido D'Alberto, nel ricevere il progetto definitivo ed esecutivo del Teatro Romano. È sicuramente l'obiettivo più importante da noi raggiunto finora, un progetto di valore storico che i cittadini della Teramo di questa epoca, una volta realizzato, consegnano alle generazioni future. Grazie 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 Grazie.